buongiorno ragazzi andiamo avanti con i triangoli oggi vedremo le proprietà dell'angolo esterno e dell'angolo interno ad esso adiacente mi spiego subito allora qui abbiamo un triangolo e l'angolo esterno praticamente quello colorato in verde evidenziato con gamma primo e l'angolo adiacente all'angolo interno quello che è colorato in arancio chiamato gamma i due angoli come potete vedere sono supplementari e viene evidenziato da questo semicerchio delimitato dalle punte delle due frecce quindi come potete vedere i due angoli sono supplementari quindi formano un angolo piatto un angolo di 180 gradi questo che cosa ci dice che un angolo esterno gamma primo più un angolo interno gamma sono uguali danno come misura addizionati 180 gradi quindi e l'angolo esterno e l'angolo interno adiacente ad esso sono supplementari e la loro somma misura sempre 180 gradi guardiamo i singoli casi allora per esempio in questo triangolo io prendo in considerazione l'angolo b interno e l'angolo b primo adiacente esterno b primo più beta uguale 180 gradi e così anche per quest'altro caso dove nello stesso triangolo prendo in considerazione gamma e gamma primo angolo interno e angolo esterno ad esso adiacente gamma primo più gamma uguale 180 gradi ultima analisi quello del vertice a prendo in considerazione l'angolo interno alfa e l'angolo adiacente alfa primo esterno e quindi mi rendo conto che alfa primo più alfa uguale 180 gradi da questo chiaramente si evince che ci possono essere anche degli esercizi e dei calcoli mirati a trovare la misura degli angoli perché si sfrutta proprio il fatto che questi due angoli addizionati sono supplementari troverete allegato alla video lezione un file in pdf dove ci sono degli esercizi guidati già svolti e potrete vedere appunto come si ricava la misura dei vari angoli andiamo avanti vediamo adesso le proprietà dell'angolo esterno e dei due angoli interni non adiacenti ad esso qui c'è un'altra regola molto importante per trovare la misura degli angoli allora consideriamo questo triangolo abc in questo triangolo è stato evidenziato in verde l'angolo esterno gamma primo cioè l'angolo esterno all'angolo interno gamma che è quello colorato in arancio analizziamo la figura 2 che è lo stesso disegno solo che non viene evidenziato in verde l'angolo gamma primo allora per il vertice c è stata tracciata la retta c è parallela al lato a b quindi considera considerate a b praticamente parallela a c è tagliata dalla trasversale a c quindi lo ripeto è dobbiamo considerare a b parallela a c è come se fosse tagliata dalla trasversale a c i due angoli che si ottengono quindi guardate colorati in azzurro sono congruenti perché sono come abbiamo spiegato nei capitoli precedenti perché alterni interni adesso consideriamo a b sempre parallela a c è però stavolta tagliata dalla trasversale b c i due angoli colorati in giallo sono congruenti perché sono corrispondenti da queste da tutte queste considerazioni che abbiamo fatto guardando queste immagini ne traiamo una regola fondamentale l'angolo esterno quindi eccoci qua l'angolo esterno quello verde che abbiamo visto nella prima immagine risulta essere la somma degli angoli interni non adiacenti ad esso guardate bene quella parte vicino al vertice c dove ci sono sia a primo che b primo nella prima immagine era colorato in verde e corrispondeva all'angolo gamma primo ora possiamo dire che gamma primo dalle considerazioni fatte sino ad ora è la somma degli angoli interni non adiacenti ad esso quindi praticamente gamma primo è uguale alla somma di alfa più beta e anche qui troverete degli esercizi proprio per calcolare alcune per calcolare le misure degli angoli quindi in un triangolo ogni angolo esterno cercate di imparare bene questa regola perché è utilissima in un triangolo ogni angolo esterno in questo caso gamma primo è uguale alla somma dei due angoli interni non adiacenti adesso quindi alfa e beta se io voglio trovare la misura di gamma primo farò alfa più beta se avessi voluto trovare la somma di alfa primo che non è qui evidenziato no per esempio l'angolo esterno all'angolo alfa avrei addizionato l'angolo beta e l'angolo gamma quindi bisogna saper gestire appunto queste misure andiamo avanti e affrontiamo la relazione tra lati ed angoli allora dunque in un triangolo esistono dei legami anche tra i lati e i rispettivi angoli opposti esaminiamo quest'immagine guardate in questa figura viene evidenziato il lato maggiore il lato minore e il lato medio l'angolo maggiore che è quello in azzurro l'angolo medio che è quello in giallo e l'angolo minore che è quello in arancio allora guardate bene al lato maggiore e opposto l'angolo maggiore e viceversa all'angolo maggiore e opposto il lato maggiore ancora al lato minore e opposto l'angolo minore e viceversa all'angolo minore e opposto il lato minore all'angolo medio e opposto il lato medio e al lato medio e opposto l'angolo medio sinteticamente c'è scritto sotto ab quindi lato ab maggiore del lato bc maggiore del lato ca di conseguenza angolo c maggiore dell'angolo a maggiore dell'angolo b analizziamo quest'altra figura questo è un triangolo che poi impareremo a definire isoscele dove ab è il lato minore e poi ci sono bc e ca che sono due lati uguali congruenti allora ai lati congruenti sono opposti angoli congruenti e viceversa e agli angoli congruenti sono opposti lati congruenti quindi i lati sono quelli che hanno la tacchetta centrale gli angoli sono questi appunto evidenziati a e b quindi bc uguale a ca angolo a uguale ad angolo b ultima immagine dunque in questa immagine che cosa vediamo vediamo tre angoli uguali e tre lati uguali quindi siccome ab è uguale a bc uguale a ca l'angolo c l'angolo a e l'angolo b sono uguali e questo è un caso di triangolo equilatero che vedremo più avanti dove gli angoli interni sono tutti e tre uguali appunto di 60 gradi va bene poi vedremo quindi riassumendo in ogni triangolo al lato maggiore e opposto l'angolo maggiore viceversa al lato minore opposto l'angolo minore viceversa ai lati congruenti sono opposti angoli congruenti e viceversa anche qui troverete degli esercizi in pdf allegati già svolti da analizzare con attenzione per poi svolgere quelli che vi darò dal vostro libro